La famosa modella argentina Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, è stata ricoverata in ospedale per quattro giorni a causa di una polmonite. La stessa Georgina ha condiviso la sua esperienza sui social, rassicurando i suoi 64 milioni di follower sul suo stato di salute e sul suo ritorno a casa. Dopo il ricovero, la modella ha dichiarato di essere finalmente tornata a casa e di stare meglio, anche se sta ancora recuperando con il supporto della sua famiglia. Durante la sua permanenza in ospedale a Riyadh, in Arabia Saudita, Georgina ha ricevuto un bellissimo mazzo di fiori da uno dei suoi cinque figli, Cristiano Ronaldo Junior. Ora che è a casa, Georgina ha ringraziato pubblicamente il personale medico che si è preso cura di lei durante la sua malattia. Attraverso i suoi social ha espresso la sua gratitudine verso i dottori, gli infermieri e tutto il personale ospedaliero che l'ha assistita in modo eccezionale. Ha sottolineato quanto sia grata per l'attenzione e le cure ricevute durante il suo soggiorno in ospedale. Nonostante non abbia fornito dettagli sulla sua malattia, Georgina ha voluto condividere con i suoi follower il suo apprezzamento per il supporto ricevuto e per l'eccellente assistenza medica che ha ricevuto durante il